La sfida è quella di far tornare le persone a credere in qualcosa in un nuovo modo di fare politica, fuori dai modelli dei vecchi partiti. Si sono presentati così tre dei candidati al Parlamento per il partito Italexit, che fa riferimento a Gianluigi Paragone. Tra gli obiettivi esposti da Giovanni Fraiese, medico sospeso dall'ordine, una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia e sugli effetti a lungo termine della vaccinazione di massa. La scienza non si fa ignorandola, come hanno appena fatto per esempio approvando il nuovo booster cosiddetto bivalente senza neanche uno straccio di ricerca sugli esseri umani. La stessa cosa che hanno fatto andando a vaccinare le donne in gravidanza senza che in realtà ce ne fosse né la sperimentazione né l'indicazione. Il focus del partito è quello invece di dare una verità completamente diversa e delle idee coraggiose e apertamente differenti da quello che è il pensiero di Draghi o delle persone che lo sostengono. Il Covid tornerà a ottobre, ha detto con certezza Fraiese, molto critico anche verso il collega Andrea Crisanti. Il personaggio è in realtà più complesso di quello che sembra, che ha sul suo curriculum come progetti attivi dichiarati per esempio una collaborazione con la Bill e Melinda Gates Foundation e quindi una connessione in diretta con la Gavi Alliance e allo stesso tempo ha fatto progetti di ricerca ancora attivi per la DARPA, che non so se sapete cos'è ma è l'ente di sicurezza più importante che c'è negli Stati Uniti dove vengono sviluppate le armi tecnologiche del futuro. Quindi diciamo un quadro oltre a destra del PD per esempio presa da quanto ha dichiarato lui stesso anni fa, che in realtà rendono l'operato molto di tipo ideologico e molto poco di tipo scientifico. Presenti anche le candidate al Senato per il Collegio di Padova, Francesca Conz, medico o dontoiatra, e Lina Manuali, giudice a Pisa. Alla presentazione alla stampa, tra il pubblico alcuni esponenti dell'estrema destra padovana.